In un torrido pomeriggio estivo, Taranto fa registrare temperature record, siamo sui 40 gradi, così passeggiando per il centro, un centro deserto, desolato, qui siamo in Piazza Immacolata, davanti alla struttura della pizzeria Ricci e dicevo così, camminando in questa realtà desertificata, vogliamo scambiare due chiacchiere con Tiziano Ricci, sono le 17.20, sembra the day after, la città completamente desolata, una città morta. Purtroppo abbiamo un po' subito il discorso delle elezioni, però penso che adesso sia finito, la nuova amministrazione si dovrebbe un attimino mettere a lavoro, rimboccarsi le maniche e darsi da fare per cercare di organizzare qualcosa in questo centro che è il cuore pulsante della città, creare eventi, qualcosa che non faccia andare via il Tarantino, farlo andare fuori, ma lo faccia rimanere a Taranto e quindi che offra qualcosa alla città. Siamo già ad agosto, io speravo che in questo mesetto, 20 giorni, in cui il sindaco comunque aveva preso possesso della sua carica, si potesse pensare anche a questo, a una così discreta programmazione estiva, piuttosto che pensare alla divisione delle poltrone, al mercato delle vacche, al manuale Cencelli, che si è puntualmente verificato. Ebbè, se la sono presa abbastanza comoda, abbiamo visto tutti quanti, penso che più di questo non si può dire. Io ora non mi sento di criticare le scelte fatte, perché le scelte si criticano quando si vedono i fatti successivi. Adesso vediamo come lavorano e poi ci potremo permettere di criticare. Io da comune cittadino, oltre che da commerciante e presidente di categoria... Lei è il presidente della categoria alimentare di Casa Artigiani Taranto. Comunque sia, c'è un piccolo ruolo istituzionale che mi permette di poter parlare. Io auguro in un bocca al lupo al sindaco e spero che possa fare qualcosa di meglio per questa città. Per il resto, i miei pensieri li esprimerò successivamente. Prima vediamo cosa sono in grado di fare. Certamente se ne sono veste di tutti i colori. Abbiamo visto baresi che sono entrati nella nostra amministrazione e questo non importa, perché io non discrimino. Il problema, Ricci, non è il barese, è il non tarantino. Poteva essere anche di Milano, di Torino, di Canicattì. Esattamente, è il non tarantino. Abbiamo visto anche persone entrare in comune per un soffio, per un pelo. Quindi ne abbiamo viste di tutti i colori. Adesso che lavorino e che si diano da fare per questa città che ha bisogno realmente d'aiuto? Andando alle problematiche concrete, abbiamo un commercio che langue, un commercio che ovviamente finora non ha ricevuto il supporto istituzionale a livello di vivibilità del territorio, di ospitalità, di appetibilità del territorio. Se consideriamo poi il dilagare incredibile del fenomeno dell'abusivismo, poi ci spieghiamo perché il borgo di Taranto va desertificandosi. Sì, purtroppo ci sono delle situazioni a Taranto che sono sconcertanti. Il fenomeno dell'abusivismo è davvero, stiamo vivendo forse un momento di anarchia nella città perché se ne vengono di tutti i colori. Ci sono abusivi. Sembra di stare a forcella, non so. Sembra veramente di stare in posti che non... Sicuramente posti che non merita Taranto il Paragona, con cui Taranto non merita il Paragona. Purtroppo dobbiamo sicuramente intervenire su questo e spero che l'amministrazione comunale si sensibilizzi su queste faccende perché se ne vendono di tutti i colori. Abusivi che vendono materiale contraffatto, ambulanti abusivi, che per l'amor del cielo io non sono contro gli ambulanti, però perlomeno si regolarezzino. Anche perché non ci devono essere i dritti e i fessi. È questo il discorso. Io ora parlo non da cittadino, da presidente della megotecoria. Io non sono contro gli ambulanti, voglio però che si regolarezzino e li vengono assegnate delle aree ben precise, che quelle sono e quelle rimangono. E ovviamente che paghino il suolo pubblico come facciamo noi tutti. Questa è una forma di abusivismo. Poi c'è quella della contraffazione. Vediamo gli immigrati che vengono sfruttati per vendere materiale contraffatto e se ne vendono tutti i giorni sempre di più. Scappano, arrivano i vigili e la polizia, poi si rimettono. Quindi è questo il giochetto. Poi vediamo anche un discorso di microcriminalità che sembra disarmante. Qua in Piazza Immacolata ho assistito a una scena un altro giorno che Luigi è qualcosa di paziente. Cosa è successo? Un genitore che stava rincorrendo, un ragazzetto sulla moto, rigorosamente senza casco, che attraverso la piazza stava per investire il bambino. Il papà si è messo a rincorrerlo, che voleva darle botte. Ma credo che sia il minimo. Purtroppo se ne vedono di tutti i colori. Proprio una pagina Facebook abbastanza famosa a Taranto, solo a Taranto si chiama, ha pubblicato un video che hanno girato dei miei clienti qua sabato scorso in cui c'era un'arena di moto lì che ovviamente scorrazzavano senza nessun problema per il centro, per la piazza. È arrivata la polizia, se ne sono scappati e poi sono ritornati. Ora io dico, non sono neanche contro questi poveri ragazzi che il sabato giustamente non sanno cosa fare. Ok, allora comune, facciamo dei posti moto, magari su via Mignogna, che è una via abbastanza tranquilla, in modo tale che i ragazzi possono entrare di là, parcheggiano e possono stare in centro. Ma sicuramente non si può stare in questo stato di anarchia che sembra di stare in paesi veramente, non lo so, nelle faveras del Brasile. Sì, perché ci sono quei paesi che sono in via di sviluppo, quindi hanno dei margini di crescita. Qui invece siamo in una fase proprio stantia a livello di palude, di acque stagnanti. Sì, ma questo è questo, Luigi. Noi non dobbiamo, io non voglio, almeno io parlo per me, non voglio essere colui che critica soltanto. Io voglio essere anche una persona che può aiutare dando delle idee. Ecco, ora ho detto di fare dei parcheggi in via Mignogna, che è una via abbastanza tranquilla, ma non perché voglio che questi ragazzi se ne vadano di qua. Voglio innanzitutto che camminino con la moto e col casco, primo. Perché giustamente una pattuglia di polizia non può fermare 40 moto sicuramente. Però voglio che abbiano rispetto per questa città. Ma non perché voglio fare lo sceriffo, perché veramente qua giocano, camminano bambini ed è molto pericoloso attraversare con la moto in questo modo. Ora io dico una cosa, i vigili e la polizia, la polizia un po' meno, però ogni tanto lo fa, pensano a fare la multa a persone come me che hanno un'attività in piazza immacolata, mi fanno la multa perché sto scaricando la macchina in via Berardi e non ho il permesso per poter entrare in via Berardi. Però non perché non lo voglio, sono andato tre volte al comune, una volta erano in ferie, una volta non c'era, un'altra volta non c'era il funzionario. Insomma, è vero che devo stare agli orari loro, però anche io ho i miei orari lavorativi. Quindi mi hanno fatto tantissime multe perché scaricavo la macchina in questa zona che è vietata, però non sono in grado di intervenire su questi fenomeni che sono distruttivi per questa comunità. Perché Taranto non si può definire una grande città, è una comunità, è una città, una piccola città. Comunque provinciale. Comunque provinciale, quindi bisogna intervenire per migliorarla. Noi siamo, ora io non metto in dubbio che in comune ci siano persone che anche loro abbiano figli, io sono papà da poco, quindi credo che tutti quanti vogliamo il bene di questa città. E io è quello che mi auguro di vedere il più presto possibile, perché già sai bene che siamo stati duri in passato, saremo duri anche adesso. Quindi datevi da fare, altrimenti poi ci rimboccheremo le maniche noi.